Radio Studio 5, questo è il Total Power Elettronico, io sono sempre DJ NET DJ NET! E la prossima novità di cui voglio parlarvi è un'interessantissima produzione Electrohouse proveniente dall'etichetta FKJ Music Records Si tratta di Alex Raimondi, featuring Vivian B, B as One Un vero treno Electrohouse made in Italy Il nome di spicco del progetto è senza dubbio quello di Vivian B Indimenticabile voce del progetto da Blitz E la sua fantastica presenza vocale si fa sentire anche in questa B as One Che è arrivata in tantissime versioni remix adatte a tutti i gusti Che vi invito a scoprire su B4.com Si tratta di un package davvero completo ragazzi Alex Raimondi è un eclettico DJ producer che ha al suo attivo diverse produzioni E la fusione con la voce di Vivian B ha dato vita a questa ottima produzione Sono certo che questa B as One abbia le carte in regola per farsi valere su tutti i dance floor Ed oggi ho scelto per voi la Original Mix in pieno stile Electrohouse No more excuses I can reach out to me Grazie a tutti 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 Grazie a tutti